Quando si sono intravisti i camion arrivare dalla gola lì della Vallata, oltre alle sagome nere con tutto quel carico umano che c'aveva sopra, quello che più ci impressionava e ci ha ancora scaldato molto di più sono stati i canti che continuavano a riecheggiare. C'era un camion, si sentiva bene che cantavano Rosamunda, invece il secondo camion stavano cantando quella dei battaglioni M e mi ricordo che la frase che ha interrotto sul suo labbro è stata interrotta dai nostri primi colpi è stata a quel punto quando dice Noi la morte l'abbiamo vista, una bomba in bocca a un fior Ma il fior non l'hanno più detto, è incominciato in quel momento lì.